Lenta ma inesorabile, l'ipotesi di una Serie C a 61 squadre prende sempre maggiore consistenza. Nella giornata di lunedì, il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha dato ragione all'audace Cerignola, accogliendo entrambi i ricorsi contro FIGI C e Lega Pro riguardanti il mancato ripescaggio in terza serie dopo la prima esclusione e dopo aver vinto un primo ricorso sempre al CONI. Alla soddisfazione del presidente cerignolano Nicola Grieco, che ha espresso tranquillità dopo il terzo successo nelle aule di giustizia, ha fatto da contraltare il rallentamento dell'intera macchina burocratica di quarta serie. Effetto domino che ha provocato il rinvio dei tre giorni della pubblicazione dei gironi di Serie D. L'accoglimento del ricorso, presentato al CONI dall'audace, ha infatti stoppato la composizione dei nove raggruppamenti, inizialmente programmata per la giornata del 6 agosto. La presenza o meno dell'audace e il conseguente ripescaggio di un'altra squadra condizionerebbero infatti la composizione. La FIGC ha presentato ricorso al TAR, che venerdì assumerà una decisione definitiva in merito alla posizione dell'audace. La certezza è una sola a questo punto. Il prossimo weekend sarà per il club Bofantino, dopo due mesi di totale incertezza, diverso dagli altri. Il team allenato da Alessandro Potenza saprà infatti quale campionato frequenterà. Un verdetto che al momento blocca anche le altre 162 squadre, che prenderanno parte al prossimo torneo di Serie D.